E adesso lo spettacolo. In scena ad Arezzo una rappresentazione teatrale con Isabella Aragonese. Rievoca le ultime ore di Ilaria Alpi, la giornalista della RAI uccisa in Somalia 20 anni fa in un agguato insieme all'operatore Miran Crovatin, il servizio di Costanza Mangini. Un palcoscenico decadente, bidoni abbandonati, simbolo del traffico internazionale di rifiuti tossici. E il fumo ad evocare lo smog di Mogadiscio sono i giorni di Ilaria Alpi raccontati in forma teatrale. Vent'anni dal suo assassino. Era il 20 marzo 1994 quando la giornalista del TG3 insieme al telecine operatore Miran Crovatin vennero ammazzati. African Requiem, scritto e diretto da Stefano Massini, toscano di origine e promessa del teatro italiano, è un pugno nello stomaco. Un racconto tra la vita e la morte, una carrellata di 13 frammenti di memoria che ci portano in Somalia, densi di emozioni. La musica ha il compito di evidenziare, di sottolineare, di creare una situazione, un'atmosfera intorno a quello che viene detto, un po' come in un film. Suoni, odori, colori per riportarci a quei giorni al lavoro di una giovane giornalista che semplicemente faceva bene il suo lavoro, quello di cercare di dare le notizie, di raccontare la verità anche quando scomoda. Un punto che mi emoziona sempre molto è sicuramente le interviste perché con molta semplicità lei fa delle domande normali ma molto forti e quindi noi abbiamo la fortuna di avere degli interventi tra i video di Joelle Dix e Gianmarco Tognazzi che ci hanno fatto questo regalo. La parte che mi emoziona sempre di più è proprio il racconto dell'incidente, tra virgolette, come è stato definito, che è capitato, quindi dell'ultimo giorno.